Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su VanSint1, totalmente su Doos Food. Ragazzi, si va avanti. Allora, nello scorso episodio praticamente Thomas ha fatto una cagata, ha usato il cellulare di Anna e noi siamo rimasti, siamo disconnessi dal cellulare che stavamo iniziando un po' a leggere le varie cose che c'erano sul cellulare e scoprire cose molto importanti, tra cui Anna ha ucciso, insieme ad Amy, naturalmente a Jennifer. E in più c'è qualcosa che non quadra con Dan, a quanto pare, perché Cleo ci ha mandato una foto della sua sedia a rotelle, ma c'è qualcosa che non quadra. Andiamo a scoprire cosa ci scopriamo in questo episodio, andiamo a scoprirlo insieme, dai. Dunque, io e Dan ci siamo. Wow, ce ne avete messo di tempo, facci una sorrita dentro e ora ci siamo tutti. Wow, ce ne avete messo di tempo. E dobbiamo ringraziare la deviazione. Com'è qui? Se vuol dire com'è qui, che cazzo? C'è per caso il letto che vi avanza? In una stanza ho visto una culla. Non sei nello stufo di stare a letto, non dire nulla. In una stanza ho visto una culla. Con il fischettino. La prendo se non c'è già dentro Tommy Boy. Che stronzo. E dove è finito il mio comitato di benvenuto? Dan. Facina sorridente di Jesse. Lì, lì, arriviamo. Le foto sono state in qualche modo di aiuto? Le foto. Ah, maledizione, non l'ho ancora mostrata Jake. Sì, lo sono state. No, per niente. Ah, maledizione, non l'ho ancora mostrata Jake. Ehi, lì c'è Thomas che sta uscendo dal bosco. Perché Dan è ora offline? Dunque. Vediamo cosa ci dice Cleo. Già prima ti avevo detto che era stata un'idea di Dan quella di fare questa deviazione. Era un efemismo. Ha letteralmente insistito affinché venissimo in questo posto. Ok. E non è tutto. Non ha voluto che lo andasse appena in ospedale. Mi ha aspettato ad un paio di usati di distanza, senza valigie. Ma che non sia... E che significa? Ma che non sia... Nemmeno stato dimesso? Pazzo. Punto di domanda. Punto di domanda. Che non stato dimesso può darsi. Credo che Dan non sia stato affatto dimesso dall'ospedale. Mi è davvero sembrato strano non dire nulla. Mi è davvero sembrato strano. Spallucce. Le sue dimissioni sono state troppo rapide. Anche se in realtà fa cose strane senza sosta. Anche se in realtà fa cose strane senza sosta. Con la faccina sorridente con la goccia. Ci sta. E questa cosa sulla sedia dell'ospedale è il suo apice. Te l'avevo detto? Neanche una parola. Sì, lo ha fatto. Potrebbe benessere. Neanche una parola. E neanche, non anche. Nemmeno noi. Mi aspettavo che dicesse qualcosa durante il viaggio. Ma non l'ha fatto. Thomas poco fa ha avuto una grave crisi di nervi. Non dire nulla. Thomas poco fa ha avuto una grave crisi di nervi. Che è successo? Trovo il racconto più tardi. È stato lui a prendere il cellulare di Anna e mandare all'area del collegamento. È stato lui a prendere il cellulare di Anna. Con Cleo ha senso essere diretti. Cosa? Oh, santo cielo. Pensavo che le cose andassero meglio nella Casa nel Bosco. Bruttissima detta così. Già, tipo, la Casa nel Bosco è un film horror. Quindi... Non citiamo queste citazioni da film horror. Eh già. Sì, ma ora va tutto bene. Sì, ma ora va tutto bene. O almeno va un po' meglio, diciamo. Abbiamo parlato. Bene, ora vado dentro. Devo convincere uno dei ragazzi ad occuparsi del falò. Buona fortuna. Ciao, a dopo. Buona fortuna. Volete vedere che succede qualcosa mentre loro mangiano di sera? Sicuramente. Grazie. Ciao. Ok. Secondo me dobbiamo andare da... E immagino... Oh, aspettate. Immaginavo di andare qua. Vanessa, ce l'ho fatta. Abbiamo di nuovo accesso al cellulare di Anna. Ottimo, meno male. Pensavo dovessimo scordarci del cellulare. Beh, sono ottime novità. Bene, allora posso lasciare in pace Thomas. Sono ottime novità. Faccina sorridente. Le faccine le amo tantissime. Mi ha scritto Michael Hanson. Non dire nulla. Mi ha scritto Michael Hanson. I messaggi mi sono arrivati dal cellulare di Anna. Come se Anna si fosse rivolta a me. Te l'hai già accorto? I messaggi mi sono arrivati dal cellulare di Anna. Cosa? Dico Michael Hanson, poi bisogna vedere se lui. Non ci avevo pensato. Cosa ti ha scritto? Lui è furioso perché abbiamo il cellulare. Non è di significativo, leggi tu stesso. Leggi tu stesso. Lo farò. Grazie che me lo hai fatto sapere. E lì lì ci scrive in privato. Allora, aspetta un attimo. Allora. Ciao Vanno, visto che siete online. Non disturbo le indagini, vero? Cosa c'è? No, certo che no. No, certo che no. Dai, sentiamo cosa vuole. Lì ogni volta sembra che dà attenzione. È pazzesca sta cosa. Addirittura non voglio rubarti troppo tempo. Ma abbiamo appena acceso il filo e Thomas è andato a prendere la sua chitarra. Volevo avvisarti in modo che tu potessi essere online nei prossimi minuti. Grazie che avevamo detto lì. Purtroppo a un momento non posso ricevere chiamate. Ah, peccato. Purtroppo a un momento non posso ricevere chiamate. Oh. Quindi qua c'è il video. Vabbè, qua la vedete poi da shade. Oh, peccato. Facciamo che te lo chiedo di nuovo quando ci siamo. Forse però allora potrai. Secondo me succede qualcosa nel falo secco proprio. Ok. Allora, ho appena visto la cronologia browser di Anna. L'ho fatto anch'io. È emerso qualcosa? Ma credo di essere me l'ha persa. L'ho fatto anch'io. Ormai le idee. Vediamo cosa dice. Una delle ultime pagine visitate da Anna è quella della festa di Pain Glade. Michael Henson l'aveva nominata in relazione alla spalizione di sua figlia. Sì, me lo ricordo. Forse questa cosa me la son persa. Sì, mi ricordo. Non me la ricordo affatto. Sì, mi ricordo. Michael Henson doveva chiudere l'Aurora per andare a prendere sua figlia. Per vedere la festa all'Aurora c'era un bel po' di casino. Jennifer è andata all'Aurora. Andoveva andare a prendere sua figlia. Lui pensava fosse a casa a dormire. Per via della festa all'Aurora c'era un bel po' di casino. Per questo non aveva tempo per Jennifer. Pensava che Jennifer fosse alla festa. Non dire nulla. Non aveva tempo per Jennifer, mi sembra. Jake, la festa è domani. Domani è il decimo anniversario della morte di Jennifer Anza. Esatto, perché ne avevano parlato prima. Non avevano parlato con Cleo. Non sembra promettere nulla di buono. Non dire nulla. Credo sia meglio che tu chieda agli altri informazioni sulla festa di Pine Glade. E precisamente su quei dieci anni fa. E cosa ci aspettiamo? Nessuno se ne ricorderà. Non dire nulla. E cosa ci aspettiamo? La maggior parte di noi non c'è neanche. Dobbiamo capire come si è arrivata l'incidente. Hm. In effetti forse lì ci potrà dire qualcosa. E credo che Anna sia stata a quella festa con uno dei tuoi amici. Sì, lo credo anch'io. Ottima idea. Dieci anni sono un periodo dannatamente lungo. Ottima idea. Dai, stiamo a quello che ci dice lui. Ok. Ecco, Thomas ha preso la sua chitarra. Ti posso chiamare? Sì, certo o no? Ancora no, purtroppo. No, ancora no, purtroppo. Purtroppo c'è la stellina. Ok, peccato però. Ok. Vanna? Dobbiamo andare avanti. Diamo loro ancora un po' di pace. Non dire nulla. Diamo loro ancora un po' di pace. Si stanno divertendo davvero. Hanno passato un brutto periodo. Sono solo un po' ancora. Solo un po' ancora. Ti piacerebbe esseri con loro, vero? Certamente se mi piacerebbe molto, no. Già siamo andati a qualcosa. Sì, mi piacerebbe molto. Sono uno di loro. Sono un'allegra combricola. Vorrei proteggerli. Vorrei proteggerli. A te non farebbe piacere essere lì. Non dire nulla. A te non farebbe piacere essere lì. Mi sentirei piuttosto a disagio lì con loro. Ma non dovresti. Non dire nulla. Credevo dicessi che non hai tempo. Mi sembra giusto. Ma non dovresti. Ben Sherlock. Ben Sherlock. Cosa vuole adesso Dan? Rompi i coglioni. Allora, ma andiamo. Allora, vediamo tanto. Ti è sembrato qualcosa. Non la vediamo. Beh, Sherlock. Beh, Jack Daniels. Per te sempre è solo Van Helsing. Ehi Dan. Beh, Jack Daniels. La tua solità acidità. Vediamo. Non hai idea di quanto sia bello essere finalmente uscito da quel maledetto ospedale. Era davvero così terribile? Certo, me lo posso immaginare. Era anche ora. Era davvero così terribile? Peggio. Non è bello però che ci ha chiamato Sherlock. Foto che non possiamo vedere. Faresti meglio a non bere. Salute. Non dire nulla. Faresti meglio a non bere. Contando che ci avrà sicuramente da prendere le pastiglie, eccetera. Se non ora, quando? Magari mai? Hai fatto un incidente in auto perché hai bevuto? Ma che sciccheria? È una nuova sedia rotale? Credo mi ha accennato della sedia rotale. Ma che sciccheria? È una nuova sedia rotale? Non capisco che vuoi dire. Sei serio? Quanto hai già bevuto? Inviare foto. Sei serio? Ah 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 ah. Ti piace? Ma è solo passeggera, vero? No, per niente. Ti dona un tocco di eleganza. Ma è solo passeggera, vero? Ovvio. Perché non ce l'hai detto? Non dire nulla. Perché non ce l'hai detto? Non è da me. Vorresti forse dimmi qualcosa che riguarda l'ospedale? Zì. Quindi? Ero davvero noioso. E che altro? Non intendevo quello. E che altro? Il cibo era orribile. Lo so già. E che altro? Con la faccina che si aspetta qualcosa? Che l'infermiera aveva nei baffi? Le mie condolianze. Dan. Tre puntini. Dan. Con la faccina quasi incazzosa. O come? Sospetto che tu non sia stato dimesso. Te la sei svegliata? Te la sei svegliata? E se fosse così? Significa ancora ragione. Oh, santo cielo Dan, lo sapevo. Lo sapevo. Io lo sapevo, come diceva Chandler. Ti amo tantissimo Chandler. Metti a rischio la tua salute. Perché ti comporti così? Sai quanto sia stupida come cosa? Non dire nulla. Sai quanto sia stupida come cosa? Inoltre puoi essere diretto con me. A dire il vero pensavo fossi venuto qui addirittura prima di me. Non serve cambiare discorso. Beh, non è così. L'ho promesso a Jake. Non dire nulla. In che senso? Pensavo fossi venuto qui addirittura prima di me. Beh, non è così. Beh, se tu fossi a posto mio, non ti saresti comportato diversamente. Ma non stiamo parlando di me. Forse chissà, non lo so. Beh, di certo non sarei fuggito dall'ospedale. Ma non stiamo parlando di me. Basta dare un'occhiata al gruppetto. Eh, vabbè. Ci sarà una foto con tutti loro, probabilmente. Le tre ragazze e Tommy Boy. Quindi mi stai dicendo che vuoi proteggere gli altri? Fino a ora è andata anche piuttosto bene, pure senza di te. Quindi mi stai dicendo che vuoi proteggere gli altri? Perché in realtà al momento di sé è come se fosse una specie di palla al piede. È brutto da dire, ma è così. Perché non riesci né a camminare né altro. E se devono scappare, la vedo molto grigia. Questa casa è sicura. Non dire nulla. Un luogo che non è nemmeno segnato sulla mappa. Perché nessuno sa dove siete? Non dire nulla. Un luogo che non è nemmeno segnato sulla mappa. Anche se in effetti però, contando che lei è andato... E se è fatto venire a prendere da Cleo, può darsi anche che l'abbiano seguita. Potrebbe darsi. Ma se ti sbagliassi? Se quell'idiota più matto dovesse venire? Sei l'unico pronto a fare qualcosa? Sì. E lo sai anche tu. Bah. Non lo so. E poi lo devo a Ricky. Lo capisco. Facci no, triste. Non dire nulla. Non dire nulla. Dan? Non dire nulla. Dan? È un bene che ci sia anche tu. Benvenuto nel club del detective. Lascia stare. Lascia stare. Eh? Ok. Penso che adesso abbiamo finito con Dan. Allora, vediamo un po' le foto. Non le vediamo. Gente, potreste venire tutti in casa. Dobbiamo parlare. Che è successo? Hai sentito il capo? Eh sì. Anch'io vorrei parlare di una cosa con voi. Che è successo? Che è successo? Che è successo? Nemmeno io ne ho la minima idea. In questo caso mi chiamo fuori. Per camminare ho bisogno delle mie mani. A dopo. Facci una sorridente. Mi puoi aggiornare su ciò che succede? Mi puoi aggiornare su ciò che succede? Ovvio. Ok. Vediamo. Non sappiamo niente. Allora, intanto il cloud è sempre tutto fatto. Quindi siamo in posto. Ho ricevuto un nuovo messaggio dal socialista di Anna. Andiamo a vedere. Ti ricordi quello che ti ho detto al telefono? Sto arrivando, Van. Li ammazzerò tutti. Ascoltami bene, razza di psicopatico mascherato. Sei malato? Non lo permetterò. Sei malato. Ti troverò, sai. Mi fai davvero bene. Ti ho osservato a lungo. Ti ho osservato a lungo. Ti posso capire. Non avevi calcolato che avremmo trovato il tuo nascondiglio. Non dire nulla. Non avevi calcolato che avremmo trovato il tuo nascondiglio. O forse sì. Hai portato tutto su un piano personale. Mi sottovaluti da questo il tuo errore. Siamo più forti di te. Siamo più forti di te. Ti ho denunciato la polizia. Ti mostrerò cosa significa giustizia privata? Rispondimi. Rispondimi. Cerchiamo il confronto. Non dire nulla. Basta, non ci scrivi più. Ti ho teso una trappola. E non te sei nemmeno accorto. Vedete che ogni tanto va sul rosso adesso. Perché? Ok, questi non me ne fa ancora guardare. Vediamo. Chiamata nel video. Chiamata di arrivo. Ciao. Ciao. In caso non vedete in la chiamata. Cleo just asked us to come in, so che possiamo discutere qualcosa. C'è la chiamata? Io ho chiamata da troppo. E allora ho chiamata. Grazie Non c'è ora che vibra Non c'è Ha tradotto molto Ma tu l'escritti nella mia strada Ora vengo E poi e finisce così lo sapevo lo sapevo che finiva così lo sapevo che finiva così ragazzi lo sapevo l'episodio finale prossimamente quindi è l'ultimo episodio ragazzi il prossimo il decimo episodio sarà l'ultimo quindi scopriamo tutto nell'ultimo episodio episodio finale non mi aspettavo che annunciassero l'episodio finale minchia ragazzi minchia cioè pesantissima come cosa vi rendete conto cioè è successo di tutto e di più ragazzi e non possiamo neanche stabilire immagino la connessione col cellulare oh si si possiamo però non possiamo vedere niente in realtà perché la rubrica le cose non abbiamo l'accesso cioè ragazzi quindi vuol dire che lui era già lì e la pistola chi è che l'aveva portata sicuramente potrebbe darsi secondo me Thomas o Thomas o forse Jesse non lo so però Lily potrebbe anche essere secondo me ha così tanta paura Lily che potrebbe averlo fatto ragazzi sono rimasto un attimo alibito alibito per la scena che abbiamo appena visto cioè sapevo che ormai stava finendo l'episodio ok però sti cazzi cioè nel senso quindi cioè praticamente lui può darsi che fosse lì ma se lui era lì come cazzo poteva farlo a sapere dove erano loro col cellulare di Anna forse ha messo tipo un'applicazione diciamo sul cellulare di Anna per poter ritrovare il telefono può darsi però allora vorrebbe dire che cercherà veramente lì dove erano loro può darsi veramente che Thomas l'abbia preso allora a casa di di Michael Hanson oppure oppure hanno seguito Dan e Cleo oppure grossa cosa che secondo me è quella più veritiera lo stronzone è Ricky quello che c'è dietro che sta tenendo tutti i fili è Ricky perché Ricky è l'unica persona che sa che dovevano andare infatti alla baita non lo so ragazzi sono tantissime domande non so come faranno a chiudere l'episodio cioè mi aspettavo ancora almeno minimo minimo 2 sbarra 3 episodi per concludere il gioco se lo concludo in un episodio cioè ci vuole del pelo sono sincero per concludere tutto il gioco in un episodio ancora perché ci sono ancora parecchie cose da da scoprire ce ne sono veramente troppe ancora non so come faranno a meno che faranno un episodio lunghissimo altrimenti non saprei proprio come faranno a chiudere il gioco anche perché o fanno un episodio un po' più lungo che cioè fanno ormai tipo il quadro generale più o meno ce lo siamo fatti e fanno quindi capire tutte le cose che ci mancano per riunire il quadro generale e capire finalmente chi è l'uomo senza volto e se ce ne sono più di uno eccetera oppure fanno una cagata enorme ragazzi e lo concludono di merda potrebbero anche farlo e senza rispondere a nessuna delle domande eccetera ho un po' di paura sono sincero ho molto timore su questa cosa qua mi aspettavo un episodio diciamo non dico autoconclusivo ma aspettavo più un episodio con un po' di cose scoperte infatti ne abbiamo scoperte tante ragazzi tante ne abbiamo scoperte però questo finale non me l'aspettavo sono sincero chissà se non avessimo stuzzicato l'uomo senza volto se avrebbe fatto tutto stesso così ma immagino di sì sicuramente perché comunque qualsiasi scelta fa porta comunque sempre a questa cosa qua secondo me sono curioso di vedere magari da Shade tutte le varie sfaccettature che non abbiamo visto tipo foto video eccetera quella mi piacerebbe molto vedarlo e vedremo vedremo può darsi anche che finiscono nel prossimo episodio perché mi dicevano che Dan sta facendo un gioco anche lui sta dirigendo un gioco a quanto pare e quindi nel senso non so quanto ancora ci potrebbe stare su Duskwood quindi secondo me può anche aver senso come cosa vedremo vedremo basta che non mi avevano ucciso Jesse perché gli faccio un mazzettone così ragazzi ragazzi adesso la parola passa a voi passa a voi nel senso che voi che cosa ne pensate cosa pensate di quello che è successo cosa vorreste vedere nell'ultimo episodio quali sono le domande a cui vorreste avere assolutamente una risposta e quali sono secondo voi le domande che secondo voi non avranno risposta perché ci potranno essere sicuramente delle domande che non avranno risposta a meno che non sono dei geni del male e riescono a rispondere veramente a tutto a qualsiasi cosa ci siamo mandati finora eccetera può darsi se lo fanno sono ben contento però ho un po' qualche remora su questa cosa qua bisogna vedere comunque lo scopriremo assieme sicuramente nel prossimo nel prossimo video che poi uscirà naturalmente poi del decimo episodio che a quanto pare sarà l'ultimo ragazzi la domanda la domanda la domanda anche più grossa è secondo voi Ricky e Anna sono ancora vivi? Ricky è veramente l'uomo senza volto? chi è che ha portato secondo voi la pistola del cottage? perché Dan ha tenuto nascosto agli altri la cosa della sedia rotelle secondo voi? ci sono tantissime domande secondo voi potremmo chiedergli veramente ai ragazzi della festa o no secondo me no perché tipo la prossima sarà stile la immagina un pochettino dell'episodio stile come si chiama Blair Witch Project tipo in mezzo al bosco con la telecamera con il ciladro che fa oh Dio sto morendo tipo così una cosa così sarebbe la immagino un po' così sono sincera non penso che cioè sarà dialogata ma sarà anche molto a video vedremo vedremo magari magari addirittura potremmo chattare con il diciamo con l'uomo senza volto o magari addirittura riusciranno a prendere l'uomo senza volto se lo dovessero prendere chissà cosa succederebbe ci sono tantissime domande tantissime cose che potrebbero succedere che se succederanno saranno tanta roba e soprattutto riusciremo a sbloccare ancora queste tre app che mancano perché una dovrebbe essere penso un'altra sempre l'email dovrebbe essere una una dovrebbe essere non disturbare di notte che non ho ben capito e un'altra dovrebbe essere penso tipo un mio diario o roba del genere non lo so comunque ragazzi sono molto molto curioso di vedere che cosa succederà spero che i giochi non siano i giochi questa volta per quanto mi riguarda sono stati un po' più tediosi rispetto agli altri infatti è stato un po' più pesantino farli ma l'abbiamo fatti tranquilli ragazzi ci siamo portati a casa anche questo episodio intero sono usciti 5 o 6 video adesso devo vedere un secondo ancora gli ultimi video che devo editarli adesso ne edito un attimo uno e poi gli altri due ve li uppo però ragazzi c'è tanta roba tanta tanta roba sono contentissimo sono contentissimo di aver concluso in questo video qua perché comunque volevo vedevo che stava arrivando verso la conclusione pian piano sapevo già che sarebbe successo qualcosa in questo momento e quando comunque hanno chiamato così immaginavo Jesse comunque è sempre temeraria avete notato sempre in prima linea c'è nel senso è lei che è andata verso la porta poi è stato Thomas a prendere il cellulare proprio dopo ha passato a Jesse Jesse ha risposto vedremo vedremo cosa succederà soprattutto chi è che avrà urlato nella quando c'è stata quella cosa lì sicuramente qualcuno magari ha urlato solo emplicemente ah Lili non c'era ragazzi Lili non c'era nel video no scusate Lili c'era che scemo era quella che teneva il telefono sì Lili c'era gli altri c'erano tutti chi lo sa però facendo così in automatico ti verrebbe da escludere tutti quelli che erano lì perché se qualcuno ha parlato o altro erano tutti lì in quel momento quindi tecnicamente ti verrebbe da escludere chiunque era lì quindi vuol dire che escludendo tutti i presenti gli unici che ne mancano sono Anna Ricky Michael Hanson Phil è in prigione quindi niente e poi un'ipotetica figura che non conosciamo però ragazzi vi immaginate se dietro a tutto ci fosse la madre di Jennifer Iris Hanson lei che tira tutte le fila ormai è venuto sto dubbio e se ci fosse la madre noi pensiamo tutti che sia Michael Hanson ma se invece fosse la madre di Jennifer sarebbe una figata sarebbe un qualcosa di inaspettato sono sincero però mi è venuto adesso in mente che potrebbe anche avvenire questa cosa qua chi lo sa vabbè comunque ragazzuoli direi che per questo episodio è tutto fatemi sapere nei commenti naturalmente che cosa ne pensate rispondetemi a tutte le domande che vi ho fatto vi ho trattato di domande in questo episodio ma voglio sapere la vostra voglio sapere la vostra non penso che farò video teorie perché in realtà ho con questo video diciamo che secondo me ho parlato un po' di tutte le teorie che potrebbero esserci perché iniziamo ad avviarci verso la fine quindi le teorie iniziano ad essere più stringate più iniziano ad essere molto più cioè di meno rispetto a prima però allo stesso tempo domande ce ne sono sempre tante ma le teorie iniziano ad essere un po' più concise detto questo ci vediamo alla prossima sempre in questo video mi raccomando mettete un mi piace iscrivetevi alla prossima ciao ragazzi e seguitemi in tutti gli altri giochi che porto mi raccomando ciao